Per lo speciale dei 5 iscritti e gli iscritti, non mi ricordo di me ne ho Sì, e gli iscritti. Oh, è una rosetta con un'opera per canale. Oh che raga, qui siamo con i team, time does go. Ok raga, qui si m'ha addonato il Woymer. Ciao. Questo che non è. Sì, cioè, facciamo qualche partita e la seconda puntata la faremo dopo. Ok raga, faremo soltanto due partite a qualche acquisto. Raga, vi lascerò il link in descrizione per caricarlo. No, è una cosa che mi piace... Ma stai facendo il mio video? Sì, no. Guarda. Guarda, stai facendo i minuti del video. Ok raga, faremo qualche acquisto. No, faremo un nuovo partito perché mai il telefono sta già certo. Ok raga, prima del nostro acquisto. No cazzo, robin! Vai, vai robin, livello 5. La prossima prea. Corvino. Corvino. Non lo so. Oh, non lo so. Eh, no cazzo! Sì! L'on... Ecco. andiamo alla cassa e cosa dobbiamo fare noi? accostarli ad accostarli sentite questo è una scuola delle scuole di cazzara ok raga il suo gioco lo faremo anche noi nel prossimo episodio nel prossimo episodio ok una partita raga 1 ok mi telefono sta già 6 morire a 5 è morto ok di forti 9 se si sbrugge con il gioco che c'è fuoco il scattingo e il video terminerà e ragazzi si blocca di conto il video allora lo so perché è morto ok mettiamo subito rovina io non lo scrivo perché mi fotte stessa buona nozza dai dai come mi sto a livello del 12 mi sembra no schifo della troia dai riprenditi ok raga ok raga raga dobbiamo togliere questi manodetti e andiamo così raga ghiaccio a chi? è madre alla sorella chi c'è? qua ok mettiamo il nostro eh la facciamo fuori ok raga ok raga ok raga proviamo a far qualcosa che bastarda raga è impossibile batterla troia è troia dei e la facciamo fuori e li inghiamo un like un like ah no non si è spento raga non si è spento eh non ti ostendo basta che vi dici qui iscriviti al canale basta che vi dici qui iscriviti al canale vi dici qui iscriviti al canale e ci sono in questo che ci sono sti 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 sti